Termina a 0-0 la sfida salvesa tra Notaresco e Tolentino, risultato che lascia entrambe le squadre in zona retrocessione. Gara che parte combattuta con Notaresco che guadagna pian piano metri alla prima opportunità al diciannovesimo con Scimia che è lanciato in contropiede viene anticipato al momento del tiro appena in aria. Al ventisettesimo Mercado si districa ai venti metri e conclude trovando la risposta in angolo di Gagliardini, poi al quarantaduesimo è ancora Mercado ad avere l'occasione d'oro. Pezzi viene servito in aria in profondità e a tu per tu libera l'attaccante che ha due passi dalla porta sguarnita, cicca incredibilmente il pallone. A inizio ripresa è ancora Notaresco a condurre il gioco al secondo. D'Aloia sfiora il palo dal limite dell'area di prima intenzione, al quarto il diagonale di Cardinali dall'interno dell'area centrale e al settimo il colpo di testa di Pezzi su azione d'angolo fa gridare al gol ma sfiora soltanto il palo. Il Taresco continua a tenere il pallino del gioco non riuscendo però a finalizzare l'ultima opportunità al quarantaseiesimo e per il giovane Marrancone che di testa da due passi schiaccia troppo la sfera. Sì effettivamente se guardiamo la classifica il pareggio non serviva a nessuno delle due però ancora ci sono altre partite, lotteremo per tutte queste altre partite, ci sono dei punti in palio. Era una partita che lo sapevamo che era una partita sia per noi che per loro difficile perché effettivamente quanto conta i tre punti contavano tantissimo oggi però dai si ha loro un po' meglio il primo tempo, secondo me il secondo tempo noi dovevamo sfruttare un po' meglio le ripartenze perché effettivamente abbiamo avuto diverse palle per colpirli però purtroppo questa partita ogni pallone pesava molto. Io in queste situazioni ai ragazzi devo fare i complimenti perché non è facile, io giocando a calcio fino a ieri praticamente quando ti trovi in quella posizione di classifica ogni pallone pesa come 30 kg il pallone allora ogni scelta, ogni cosa che fai pesa sia a favore che contro però i ragazzi sono stati bravissimi. Sono d'accordo, molto probabilmente i ragazzi sentivano questa gara per l'importanza e non mi è piaciuta per nulla devo essere sincero, molto timorosi, molto confusionari, sbagliavamo tanto ma questo è frutto del peso della partita. A tratti qualche cosa si è visto, abbiamo fatto discretamente, abbiamo sbagliato qualche volta l'ultima scelta, qualche decisione un po' affrettata però devo essere sincero la partita non mi è piaciuta affatto. Ma io fino a quando ci sarà la possibilità io ce la metterò tutta, tutto l'impegno possibile, cercherò di inculcare ai ragazzi questa cosa. Come hai detto tu c'è stata paura, la paura non deve esistere in una partita di calcio, ci deve essere tranquillità, serenità e mettere in pratica ciò che proviamo in settimana. Noto che in settimana la squadra fa delle cose, poi dopo la domenica no, quindi questo è un problema grande e dobbiamo lavorare soprattutto sulla testa.